Rifondazione Comunista e il Partito Comunista Italiano insieme per sostenere la candidatura di Roberto Daghini nella lista Comunisti Pratesi. 60 anni, pistoiese d'origine ma residente a Prato dal 1984, lavora come dipendente in una rifinizione pratese. La lista è composta essenzialmente da persone comuni, si tratta di pensionati, persone che vivono del proprio lavoro, sono dipendenti, persone semplici. Addirittura ci sono una buona percentuale di persone che sono disoccupate, disoccupate dal lungo termine. E abbiamo messo insieme questa lista perché secondo noi è l'unica lista di sinistra presente sul territorio. In lista anche un 81enne, Marussia Troni. Oltre ai candidati è stato presentato anche il programma che si ispira ai valori della sinistra. Il punto chiave naturalmente come comunisti gli è il lavoro, però inteso come lavoro di qualità. Nel senso che siamo contro ogni precariato, vogliamo una filiera tessile tracciabile, aspiriamo, se vero eletto io, mi batterò per avere il mare in Prato, nei confronti sia del Governo nazionale e sia del Governo della Comunità europea. Altri punti ci sono l'ambiente, il decoro. Noi pensiamo che si può assaggiare e risparmiare evitando il consumo di territorio o utilizzando le aree dismesse. In caso di ballottaggio, Daghini non darà nessuna indicazione al proprio elettorato.